Benvenuto e bentornato sul mio canale. Ciao sono Dani T o cinghiale di ferro su Dauntless e oggi riporto il secondo video con la seconda cella della sfida delle gilde numero 2 con le lame a catene oscure. Ma prima di lanciarci su questo video ti ricordo come sempre di lasciare un like se questo video ti è piaciuto, iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità per quanto riguarda il mondo di Dauntless. E detto ciò lanciamoci sul video. Per chi si fosse perso i video precedenti o le ultime novità per quanto riguarda Dauntless queste celle possono essere solo comprate con i gettoni sfida di gilda e non potranno essere trovate al contrario all'interno dei nuclei. Al momento siamo alla sfida di gilda 2 ma non vi preoccupate nel negozio troverete anche le celle presenti nella sfida di gilda 1. Ritornando alla cella ora vi spiegherò cosa fa, come funziona e come riconoscerla nella barra dei bonus attivi. Per quanto riguarda il suo effetto la cella riciclo ci fornisce un bonus di 10% ai danni cumulabile fino a 6 volte qualora questa cella fosse a un valore più 6 solamente quando infliggeremo danni alla stessa parte consecutivamente. Questo bonus apparirà nella nostra barra con un'icona a forma di catene al cui interno troveremo il numero che sta a indicare gli stack o la percentuale di danno che avremo in più. Altri due punti importanti per quanto riguarda la cella riciclo sono quando arriveremo al massimo delle stack, in questo caso supponiamo più 6, questo bonus rimarrà attivo solo per 30 secondi, naturalmente se continueremo a colpire la stessa parte. Un altro punto importante per quanto riguarda la cella è che personalmente vedo molto più semplice mantenere questo bonus se si colpisce testa o coda. Spesso quando si mira ad ali o alle gambe inavvertitamente si può colpire una parte differente ad esempio il collo o la coda e quindi perdere nuovamente il bonus. naturalmente un'altra parte importante per quanto riguarda la cella è che non dovremmo necessariamente colpire ad esempio la testa del bimot sei volte in rapida successione ma potremmo colpire con piccoli stacchi di tempo tra un attacco e un altro. Naturalmente il successivo attacco dovrà essere seguito prima dello scadere del buff, cioè prima dei 30 secondi. Per quanto invece riguarda provare il set ho deciso di fare un'ascesa 10-50 terrestre con lame a catena oscure legate con le lame del reef stalker. Per aumentare di più i danni che potremmo infliggere alle creature presenti sui terreni di caccia e sulle ascese ho scelto la cella artificiere. Sì ragazzi non ho battuto la testa lo so che sono un grande stimatore di sangue gelido però sì per questo set per aumentare i suoi danni ho preferito utilizzare artificiere e come avete visto poco fa sono riuscito senza particolari bonus dato che parliamo del primo scontro a raggiungere il primo traguardo dei 10k di danno. Nella seconda arena anche se è un po' complicato sono partiti nuovamente 10k di danni. Il bonus che avevo in quell'istante era boia anche se però non era attivo perché il boreos aveva più di metà vita. Inoltre un altro punto da far notare è che in entrambe le occasioni sia contro il charrog che in questa sfida nella seconda arena non avevo utilizzato correttamente l'omnicella. Per quanto riguarda invece l'ultimo scontro avendo tutti i bonus attivi ma non utilizzando le pozioni ebessi una bella fetta di danno è arrivata all'agarus. Naturalmente dopo avervi spiegato la cella e fatto vedere qualche numero è arrivato il momento di mostrarvi il set e spiegarlo punto per punto. Come detto prima le lame saranno quelle del tracks. All'interno avremmo frenesia dell'assassino e cascata, speciale danza del mietitore e mod lame inerziali. Per quanto riguarda invece il legame avremmo quello con il riff stalker. La sua passiva unica ci garantisce un bonus ai danni di 2.25% che può essere accumulato fino a 5 volte. Qualora dovessimo arrivare al massimo del bonus questo danno verrà raddoppiato per un totale del 25% in più dei danni che infliggeremo. Per quanto riguarda invece l'omnicella ho scelto di utilizzare artificere. Perché? Se notiamo il punto 3 di questa cella dice marchia una parte che subisce il 15% di danni in più per 15 secondi. Quindi andremo a potenziare sia la passiva unica del riff stalker che l'abilità della nuova cella riciclo con un ulteriore 15%. Per quanto riguarda la lanterna io ho scelto scarne al cui interno ho aggiunto cascata. Naturalmente voi sentitevi liberi di modificare e utilizzare quella che più vi piace. Per quanto riguarda il petto abbiamo il tracks naturalmente con astuzia più 3. Nell'elmo abbiamo inserito la nuova cella e come elmo ho utilizzato quello esotico del tessitempo. Se non sapessi dove trovarlo ti consiglio di vedere il mio video sulla guida alle armi e alle armature esotiche. I guanti invece saranno del malcarion con all'interno nuovamente la nuova cella e infine i piedi del cronovero con impulso. Per quanto riguarda i tonici come sempre abbiamo il pilone rimovente, il tonico della frenesia e il tonico incalzante. Sul riepilogo bonus vi faccio notare frenesia dell'assassino che recita ogni volta che laceri o partecipi alla lacerazione di una parte di un bimoth ottieni il 15% di velocità di attacco in più per 40 secondi. Non scordatevi che ora le lame a catena possono infliggere danni laceranti e quindi una buona opportunità per aumentare il danno di questo set. Ti consiglio di provare questa cella riciclo anche con altre armi dato che non è richiesto che i colpi vengano eseguiti in maniera consecutiva e rapida ma solamente consecutiva sulla stessa parte. E anche per questo video è tutto io ti consiglio se sei interessato al mondo di Dauntless di seguire altri miei video e da danni t o cinghiale di ferro è tutto e noi come sempre slayer ci vediamo al prossimo video ciao